Ci deve essere una voce univioca sulle misure. Questa è la richiesta avanzata dai presidenti di regione durante l'incontro con i ministri Boccia e Speranza per discutere dei contenuti del prossimo DPCM. Tra i temi affrontati è anche quello dei parametri che dovranno essere presi in considerazione per delineare la nuova geografia di rischio del paese. Se da un lato viene confermato l'abbassamento della soglia dell'R con T, dall'altra sembra al momento congelata l'incidenza di positivi ogni 100.000 abitanti. L'incidenza è un fatto scientifico ma funziona se tu decidi che tutte le regioni fanno una percentuale di tamponi sulla popolazione, su quel campione di popolazione a quel punto puoi mettere in linea le incidenze. Se i dati non sono uniformi tu non puoi paragonare i dati di una regione con un'altra. Durante il punto stampa Ampio Spazio è stato dedicato alla validazione da parte del Ministero della Salute dei test antigenici rapidi, una vittoria per il Veneto che da mesi chiedeva che lo strumento venisse preso in considerazione nel calcolo delle positività. Quello che noi abbiamo approcciato in Veneto come diagnostica sia assolutamente in linea con questo documento, anzi se posso permettermi di dire l'abbiamo un po' anticipato. È il padre dei tamponi rapidi, il coordinatore delle microbiologie del Veneto Roberto Rigoli a spiegare la circolare del Ministero. La differenza tra i test al momento utilizzati di prima, seconda e terza generazione, ma il Veneto sta sperimentando un nuovo strumento di ultimissima generazione che dà una risposta in appena tre minuti, come abbiamo già anticipato ieri sera mostrandolo nel nostro telegiornale in anteprima. Visto che siamo di fronte ad un virus respiratorio che non rimane in latenza, spiega Rigoli, è fondamentale la tempistica e la frequenza con la quale si fanno i test. Io posso averlo negativo, il test sia in molecolare che antigenico, quel giorno, dopo due giorni mi viene positivo, anche dopo otto ore. Guardate che la letteratura dice, meglio indagini più frequenti che andare a puntare sulla sensibilità del metodo. Intanto sul fronte recovery il trend continua a dare segni di miglioramento, anche se la pressione permane importante. C'è una timida tendenza che abbiamo ormai da cinque giorni, in calo sia su terapie intensive che in area non critica, commenta Zaia. Stamane erano 96 posti letto in rianimazione liberi, cinquanti ricoveri in meno al giorno in area non critica. Questa è la fotografia scattata da dottor Flor, a cui spetta replicare alle dichiarazioni rilasciate dal professor Crisanti, che in un'intervista ha parlato di una incongruenza tra il numero dei decessi e quello dei ricoverati in terapia intensiva. Ma non è che muoiono solo in rianimazione. Guardate che si muore anche nei reparti di malattie infettive, delle tene subintensiva, nei Covid hospital, si muore a domicilio, si muore in casa di riposo.